Lo Suonzi che è la squadra che ha ottenuto il Glasgow Rangers e il Borussia Dortmund formazione tedesca. Ha finito per vincere per 2-0 il Glasgow che è forte dello 0-0 tenuto sul campo del Dortmund nell'incontro d'andata. Si è portato in vantaggio al 45esimo del primo tempo con questo gol di Cooper, la cui posizione peraltro appare estremamente dubbia sul lungo tiro di un compagno di squadra. Ecco Cooper sembra trovarsi oltre la linea dei difensori avversari, almeno un'impressione ottica, comunque l'arbitro convari dal gol ed è l'1-0 che in pratica decide il confronto tra le due squadre. Anche se poi il centravanti Johnson si fa valere come colpitore di testa, qui il portiere del Borussia Dortmund è bravissimo. In una circostanza successiva sarà meno bravo, un po' più incerto in un'uscita e stiamo proprio per vedere il cross che permette a Johnson di realizzare il 2-0 al 35esimo della ripresa. Zasbo Rangers qualificato, Borussia di Dortmund eliminato. Rivediamo l'azione, l'unplende delle squadre scostesi passa anche attraverso questo successo dei Rangers sul Borussia di Dortmund in Coppa West. Ecco il traversone, ecco il bel colpo di testa di Johnson sul liceo di questo portiere avversario.